Invece chi ha detto delle parole molto pesanti nei confronti di Napoli è stato il sindaco di Cantù che l'ha definita una fogna infernale e ha detto che non ci verrà mai e noi siamo andati a sentire sia Cantù, gli abitanti di Cantù, che gli abitanti di Napoli con Alessandro Poggi, vediamolo